Esiste davvero la paura di impegnarsi in una relazione? Ebbene sì! Si tratta di un fenomeno reale, che spesso viene interpretato sia come un legittimo timore che come una scusa conveniente. Viene identificata come commitment phobia, un disturbo caratterizzato da un'intensa ansia nei confronti delle relazioni che può arrivare a condizionare seriamente la vita affettiva di chi ne soffre. Questa fobia richiede l'intervento di professionisti per essere gestita efficacemente. Diversi motivi possono spingere una persona a temere l'impegno in una relazione, traumi passati, delusioni amorose precedenti o il timore di perdere la propria indipendenza. Indipendentemente dalle cause, è fondamentale affrontare queste paure con comunicazione aperta e onestà con il partner. Inoltre, non tutte le persone si identificano con il modello tradizionale di relazione monogama. Alcuni possono trovare più adatto per sé un modello poliamoroso, che consente di mantenere relazioni affettive e sessuali con più partner in maniera consensuale e rispettosa. L'importanza dell'autoconsapevolezza, la sincerità nelle relazioni amorose, evidenziano come la paura di impegnarsi possa essere un segnale di bisogni e desideri più profondi, che meritano di essere esplorati e comunicati chiaramente.